Buongiorno, buon inizio di giornata insieme a noi con l'informazione in diretta e con la rassegna stampa. Andiamo subito a vedere le ultime che arrivano dalla Capitale con la discussione in Parlamento sulla manovra finanziaria soppressa la norma sul POS ed è stato prorogato il bonus 110%, questi gli ultimi provvedimenti che sono passati nuova stretta sul reddito di cittadinanza, via libera alla rinegoziazione dei mutui. Domani il testo va alla Camera, venerdì ci sarà il voto di fiducia per approvare la manovra che la Meloni conta di poter portare a termine prima di Natale, come abbiamo letto nei giorni scorsi. Dunque non se ne fa più nulla sul POS e sui famosi 60 Euro di limite sotto il quale il commerciante, l'esercente poteva evitare, avrebbe potuto, secondo le intenzioni del governo, infiutare il pagamento elettronico. Si va avanti così come si è sempre fatto, si può pagare con qualsiasi strumento, si può pagare anche in contanti, perché qualcuno erroneamente ha detto ma ci vogliono impedire di pagare con il contante, non è così, il contante è sempre consentito, ma è consentita anche la carta di credito, è consentito il Bancomat, quindi pagare con il POS acquisti per qualsiasi cifra. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, Zelensky è atteso a Washington per il primo viaggio estero del Presidente dopo lo scoppio della guerra, vedrà Biden e poi andrà al congresso, i due leader parleranno dei prossimi aiuti Stati Uniti che dovrebbero prevedere anche l'invio di missili Patriot e bombe intelligenti. Adesso andiamo sui giornali, vediamo i titoli dei quotidiani, si parla della manovra, volata nel caos, scrive il Corriere della Sera, il MEF, se la Camera è d'accordo via libera anche senza modifiche, confermato il voto di fiducia. Fiducia partiti ancora divisi sugli emendamenti, niente scudo penale per i reati fiscali. Siamo al primo passo, adesso riforme strutturali e l'intervista rilasciata da Silvio Berlusconi al Corriere della Sera per commentare proprio i vari passaggi della manovra. Andiamo su Repubblica, stop al salva evasori, legge di bilancio, il bonus diciottenni si sdoppia, Isee o massimo dei voti alla maturità. La minaccia delle opposizioni, di ostruzionismo, oltranza fa saltare il colpo di spugno sui reati fiscali, chiesto alla Forza Italia. Secondo giorno di maratona notturna, voto di fiducia entro Natale che scongiuri definitivamente l'esercizio provvisorio. Panzeri che è finito nella bufera per le mazzette catariote accusa Cozzolino, collabora con i magistrati del Belgio che stanno indagando, doa all'attacco fuori le prove. Speranza a Conte, non accettiamo lezioni morali. Conte e il Movimento 5 Stelle continuano nella sua strategia di andare avanti sostanzialmente senza pensare dalle ansie, senza badare a nessuno. Andiamo sul fatto quotidiano. Casino totale, scrive il fatto quotidiano in apertura sulla sua prima pagina. Manovra, dopo la denuncia del fatto, salta lo scudo penale agli evasori. Governo, lite su tutto. A dieci giorni dall'esercizio provvisorio, maggioranza in stato confusionale. Finanziaria già da rifare. Spostiamo adesso sul foglio. Al centro, in colore rosso, lo schermo degli Ayatollah. Il regime iraniano soffoca le proteste che durano e non si fermano nelle celle e frugando nelle vite online dei manifestanti. Non esibire la ferocia è una strategia precisa che scommette sulla nostra distrazione. E poi sotto la testata è in colore blu. POS, speed, vaccini, rete. La lotta contro l'innovazione tecnologica diventa la nuova bandiera della destra. Dietro c'è un TIC, il luddismo statalista. E andiamo adesso a leggere il gazzettino. In prima pagina, l'apertura aiuti di Stato, via libera dell'Unione Europea, sbloccati 23 miliardi per l'Italia, destinati alle imprese più esposte per la crisi dovuta alla guerra. E poi il regime di garanzie per le aziende è stato rifinanziato e prorogato fino a dicembre 2023. Uno studio del Crodiaviano, malati oncologici non vaccinati, rischio di morire dieci volte più alto. Lo dice il Crodiaviano, non è una dichiarazione di un qualche politico. E' il Crodiaviano che parla di questo, vi bisognerebbe far riflettere su tutto ciò che abbiamo letto, anche sui giornali, su alcuni giornali, in una battaglia contro i vaccini, che come vedete, se attecchisce, può provocare anche la rinuncia a questo strumento di protezione che per i malati oncologici, in mancanza di vaccinazione, può significare un rischio di morire dieci volte più elevato. Cellulari in classe vietati agli studenti, stop anche ai prof. Circolare del ministro Donazzin, sia per tutti in Veneto, campagna educativa. Donazzin dice in Veneto, c'è una campagna educativa e sia per tutti così. Dobbiamo dire che quello che ha detto l'assessore regionale Donazzin in Veneto è corretto, ma c'è anche da dire che la legge già esisteva e poi dipendeva anche un po' dagli istituti scolastici e nella nostra regione già, in sostanza, era comunque regolato l'utilizzo dei cellulari all'interno degli istituti scolastici, certamente non durante le elezioni. La verità, tutti i nomi della rete di panzeri, lo scandalo socialista si allarga ogni giorno, i dieci soggetti su cui PM Belgi hanno chiesto di concentrare le indagini per la corruzione da Catarra in Marocco, otto sono italiani, la CAI discarica le colpe sull'ex sindacalista, le intercettazioni chiave con moglie e figlie di cui parla di regali e contratti con Rabat. Spunta il cablo a zero, l'uomo di articolo 1 da critico diventa equilibrato col regime all'improvviso. Colpiti dalla bomba a Kerson siamo vivi per una questione di centimetri dei giornalisti che erano impegnati per raccogliere informazioni, immagini per il loro reportage. A sinistra il nostro Celesti medica il collega Locatelli nelle tre foto sotto la sequenza del colpo, a destra la fiancata perforata della vettura. Ecco quello che è successo ad alcuni colleghi italiani che sono stati colpiti da una bomba a Kerson e sono vivi per una questione di centimetri, come hanno raccontato. Altri doni Unione Europea, rischio pacemaker e protesi. L'inaspiramento delle certificazioni dei dispositivi sanitari sta per scatenare un salasso che può togliere dal mercato decine di migliaia di prodotti. Allarme di confindustria, pazienti e ospedali rimarranno senza. Crescono le mazzette, cala il Partito Democratico, questa è la prima pagina di Libero. Con il caso Panzeri il partito di Letta scivola sotto il 15%, mai così in basso. Bossi rischia di sfasciare la Lega, attacca Salvini e vuole fare una sua lista. Anche Fontana dice no. E poi, atlete torturate per la medaglia e i genitori muti. Lo scandalo delle ginnaste sta assumendo dimensioni gigantesche. Lacrime sulle leggi razziali? Tardi, dice Gad Lerner. Per Lerner la Meroni sbaglia pure se piange. Andiamo a vedere adesso l'identità. Apertura sulla politica, sulla scissione sinistra. Correnti, veti, guerre fra i big. Così il PD prepara la rottura. L'editoriale di Tommaso Cerno, la bella sinistra e la bestia demma, la resa dei conti nel PD, mai nato. E poi, gli euroaffari della dea Cahili, si allarga il Qatargate con le prime ammissioni e Cahili tira in ballo il padre che doveva nascondere i soldi, ecco il sistema europeo che ruota attorno all'inchiesta sulla corruzione a Strasburgo, fra milioni cash, bile da sogno e vacanze da magnate. E poi il caso Somaoro, i soldi del caso Somaoro, svuotati i conti della Coop, l'inchiesta di Latina sulla cooperativa Caribou. Adesso andiamo a vedere il giornale. Viene giù l'Europa, si allarga il Qatargate, lo scandalo a Mazzette sfiora la commissione nel Milino, la struttura di Borrell, sequestrata una casa a Cervinia, la cooperativa di Somaoro con conti correnti svuotati, e poi democratici garantisti soltanto con loro stessi. L'inchiesta fanpage su Fratelli d'Italia, fra Doha e l'inchiesta su Fratelli d'Italia. Scudo fiscale e carta giovani, irrebus manovra, il governo smentisce, aiuti a chi evade, caos bonus, l'opposizione allunga i tempi. Anche qui sul giornale viene riportata la dichiarazione di Gad Lerner sulle parole della Meloni contro le leggi razziali. Alla sinistra dei Lerner non basta, le lacrime di Meloni per gli ebrei, alla sinistra dei Lerner non basta. Vediamo qui. Stop alle ricette via mail dal 2023, si torna alla carta, scade la norma legata al Covid. Andiamo a vedere anche questa notizia che ricorderete la vicenda della giornalista in diretta TV palpeggiata con una pacca sul sedere da un ristoratore toscano che passava di lì durante la diretta. L'uomo è stato condannato, ma le sentenze contrapposte parlano di un altro caso in cui un'altra persona non è stata condannata perché ha toccato il lato B della donna col dorso della mano e non con il palmo. E dunque sentenze contrapposte, stranezze del sistema giudiziario italiano che hanno portato ad una condanna o ad una non condanna a seconda della modalità della palpatina. Andiamo avanti e adesso andiamo a vedere il Sole 24 ore per chiudere la rassegna nazionale. Rush sulla manovra, niente scudo penale, resta il salvacalcio, ultimi ritocchi al POS. Poi caos sullo speed, per ora rimane e il governo perde tempo. L'identità digitale che è servita, serve, chissà se servirà ancora oppure no, visto il dibattito in corso, per accedere a molti servizi anche dell'amministrazione pubblica. Prima di passare ai giornali locali andiamo ad ascoltare le parole di Salvini, esponente della Lega, sulla manovra, sui vari passaggi che la manovra sta affrontando prima di arrivare alla Camera e poi, nell'intenzione del governo, essere approvata prima di Natale. In manovra, anticipo le domande dei giornalisti, sono ancora in corso trattative, emendamenti, subemendamenti, massi emendamenti, però uno dei temi su cui come Lega ci eravamo impegnati già da qualche anno, che questo inverno, che per la prossima stagione sarà dedicato perché è legato al costo di energia, dovremmo, io voglio essere cauto, ottimista ma cauto, ma dovremmo essere riusciti a essere in un massimo emendamento il più che dimenzamento dell'IVA sul pelle. E questo per chi abita in montagna, che non solo, chi ci lavora e chi ci si riscalda, passare dal 22 al 10% è un emendamento da oltre 100 milioni di Euro, che significa aiutare molte famiglie, tante famiglie in Lombardia, con 100 milioni di Euro, dimenzando le tasse su una forma di riscaldamento. Ecco, questi sono alcuni dei provvedimenti, in questo caso il pellet, che è sicuramente molto importante sul fronte del caro energia. Andiamo sul messaggero e quindi siamo sulle pagine locali, dove si parte con lo stop ai cellulari in classe, circolare del ministro, i presidi friulani, non è una novità, il divieto c'è già. Udine è la prima ad impiegare i nuovi veicoli elettrici. Andiamo a vedere qui la foto con i bus elettrici che partiranno, entreranno in servizio a partire dal mese di gennaio e saranno usati nella circolare attorno alla zona pedonale. Vediamo il servizio della nostra redazione, servizio della regionale di ieri, sulla presentazione di questo nuovo servizio con bus verdi in città. I primi tre mezzi elettrici in assoluto di arriva a Udine, molto tecnologici. Beh sì, è un mezzo assolutamente all'avanguardia, è un mezzo che ci consente quindi di essere pienamente sostenibili. Mezzi che hanno una dimensione diciamo così un po' inferiore a quello che di solito uno standard, siamo intorno agli 8 metri e mezzo e questo chiaramente per ridurre l'impatto soprattutto in un percorso cittadino in termini anche di visibilità del mezzo, un mezzo che comunque ha un'ottima capienza di persone di capacità con una ricarica che consente di affrontare il servizio per l'intera giornata con poi dopo appunto una ricarica che verrà effettuata in fase notturna. Entreranno in funzione con il 9 gennaio per questo circolare centro storico che tra le varie fermate permetterà di raggiungere i due estremi di via Mercato Vecchio. Sì, è proprio così, proprio per dare alla cittadinanza la possibilità di fruire di questo importante servizio in maniera molto veloce, molto rapida. Abbiamo tre navette che circoleranno con una frequenza di servizio di circa 15 minuti e un percorso devo dire molto accattivante che il comune di Udine insieme alla regione hanno studiato e messo a punto proprio per consentire ai cittadini una maggiore fruibilità di questi mezzi. Anche questi mezzi sono dotati dalle tecnologie ovviamente per le persone diversamente abili. Siete alla ricerca di autisti, nuovi autisti anche in virtù dell'avvio di questa nuova circolare? La ricerca di autisti è sempre attiva presso la società che si sta muovendo per cercare di sopperire a quelle che sono le mancanze o comunque i limiti che sono stati rilevati. Questo dunque il quadro del nuovo servizio che scatterà come detto nel mese di gennaio a Udine e servirà alla fascia circolare vicino al centro con i bus elettrici. Vediamo anche la pagina di cronaca dedicata a questo tema sul messaggero, i tre nuovi bus elettrici in servizio da gennaio attorno all'area pedonale. Abbiamo già sentito anche le parole degli intervistati da Monica Dardini. Adesso passiamo all'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. Vediamo i titoli che riguardano a destra tagliamento con l'apertura dedicata anche in questo caso allo stop e cellulare in classe che è un tema di fatto che ha suscitato dibattito ma che in Frui Venezia Giulia fa sì che non cambia assolutamente nulla questa circolare del ministero perché è già così. Addio a Monsignor Padovese, venerdì avrebbe compiuto 90 anni, un grande uomo di cultura per anni diresse la casa dello studente. È stato ricordato da molti pordenonesi, personaggi politici, autorità. Era un riferimento, la sua eredità resterà sempre con noi e poi il libro intervista nel titolo vuole ribadire il suo motto, nulla è da buttare. Adesso andiamo a vedere la pagina di cronaca di Pordenone. Apertura dedicata alla nuova sede universitaria in centro per attrarre nuovi corsi e giovani. Tre ipotesi di lavoro, la casa dello studente, la sede di via Bertossi e il centro direzionale Galvani. Vediamo invece in basso sui costi congelati per quanto riguarda il servizio dei rifiuti, il recupero retroattivo dell'evasione per 5 anni. Sono provvedimenti contenuti nel bilancio del comune di Pordenone. Andiamo sul gazzettino, vediamo la pagina dedicata al Friuli Venezia Giulia. Al Friuli, a dire il vero in maniera particolare. Covid, pronto soccorso in ginocchio. Ad Udine il pronto soccorso scoppia, allarme dei sindacati, l'azienda, corre ai ripari, ricavati, posti, tampone in dei hospital. Will e Norsin hanno chiesto un incontro urgente ai vertici, medici con il picco influenzale, si va verso il collasso. Abbiamo anche intervistato ieri, abbiamo sentito dei rappresentanti per quanto riguarda proprio gli infermieri su vari temi in discussione in questo periodo per quanto riguarda la gestione della sanità pubblica. Festa per tutti, per noi, come per tutti i servizi d'emergenza, le giornate festive ovviamente le passeremo a salvaguardare la salute dei cittadini. Si pronunciano giornate in un incremento di interventi, molte volte legati agli eccessi che vengono fatti nelle giornate di festa. Quello che mi sento di dire e le raccomandazioni che mi sento di dare a tutti i cittadini e festeggiate, soprattutto dopo due anni di pandemia, è giusto ritrovarsi in famiglia e con moderazione però mi raccomando. Festeggiate con moderazione, vanno bene le unioni familiari e soprattutto, attenzione, se avete bevuto qualche bicchiere in più, non mettetevi alla guida, d'accordo? Cerchiamo di festeggiare tutti, passare dei bei momenti ed evitare che le feste natalizie si trasformino in tragedie. Voi siete organizzati perfettamente, avete dei compiti ben precisi all'interno di questa sala. Quali sono però i consigli che potete dare a chi deve chiamarvi in modo da dare le informazioni che sono utili nei tempi più ristretti? Certamente, allora siamo organizzati in due settori a grandi linee, per usare termini semplici, una parte di infermieri, qua sono tutti infermieri altamente specializzati e formati al tipo di mansione, una parte che risponde alla chiamata di emergenza dell'utenza, quindi il 112, l'operatore del NUE, passa la telefonata a noi, l'infermiere acquisirà tramite un'intervista telefonica delle domande per codificare il codice di uscita, la gravità più opportuna in quel caso, mentre un altro collega, in caso di gravità maggiore, invierà tempestivamente l'ambulanza e il mezzo di soccorso. Cosa vuol dire questo? Non serve che il collega smetta di essere collegato all'utente, tolga la telefonata per mandare l'ambulanza. Anzi, ascoltate attentamente i consigli che vengono dati dai colleghi infermieri in quanto tramite semplici manovre si può davvero fare la differenza nella salute della persona fino a quando non arriva l'ambulanza, come ad esempio nel caso di arresto cardiaco. Come cambia il vostro impegno rispetto a una giornata normale durante le feste appunto di Natale? Durante le feste chiaramente la gente è più in giro, si ritrova, ci impartono i pranzi, le cene, quindi purtroppo magari la congestione è un pochino più facile, no? E spesso insomma c'è anche un giro di stranieri che viene a farsi le ferie, quindi aumentano anche le chiamate con gli stranieri, ma dal nostro canto aumentiamo anche noi la quantità di personale presente qua in sala, per cui cerchiamo sempre di affrontare le difficoltà che possono esserci e sono impreviste, come dire, sempre carichi, pieni di energia e uniti, questo è insomma, e stando in tanti ecco qua dentro, perché sappiamo che c'è bisogno. Ecco, bisogna essere responsabile anche per evitare chiamate inutili, tante chiamate ai servizi di emergenza, sovraffollamento nei prodotti soccorsi, questi sono alcuni dei temi che generano dibattito nel settore della sanità. Andiamo adesso a vedere di questo incidente stradale, ieri in A4 con due tir che si sono scontrati nel tratto fra La Tesana e Porto Cuaro, è stato necessario intervenire per soccorrere una persona gravemente ferita, si riporta anche sul gazzettino il tema dei bus elettrici che entreranno in servizio ad Udina a partire dal mese di gennaio, e poi c'è la novità delle regole per la ZTL, ma attenzione perché qui le polemiche saranno sicuramente accese nei prossimi giorni, con alcune delle parti in causa che non sono state più contattate dal Comune per definire il disciplinare della ZTL, per chi vorrà seguirci noi ce ne occuperemo venerdì sera in Fair Play con i servizi di Barbara Venuti, gli interventi dalla città, approfondiremo questo tema che abbiamo già trattato e che vede una contrapposizione molto forte fra chi è d'accordo intanto per esempio sulla penalizzazione di alcune zone, sulla modalità di transito, le autorizzazioni permessi per l'accesso nella zona traffico limitato e quant'altro. Ne parleremo venerdì sera alle 21.15 nel prossimo appuntamento con Fair Play. Adesso andiamo a leggere il piccolo di Trieste che apre con dal DNA al 6G, l'Università finanzia il futuro, strumentazioni all'avanguardia nei laboratori di ricerca, spesa totale di 4,6 milioni, sono stati finanziati ben 22 progetti innovativi. sotto la testata, la foto, l'omaggio di Trieste a Balestra. Renato Balestra ha scomparso poche settimane fa, figlio della città di Trieste. La finanziaria, maratona notturna per la manovra, il governo cede sullo scudo fiscale e si riesce ad andare avanti. Questo è il piccolo di Trieste, vediamo quello di Monfalcone e Gorizia. Titoli diversi, si parla del pronto soccorso, ancora sanità, dunque la gara va deserta ma il progetto resta. Per avviare le procedure c'era bisogno di due offerte per ciascun polo sanitario. Ora arriverà l'affidamento diretto. Sotto la testata, lo scambio a scuola dei doni usati. iniziativa interessante questa organizzata a Gorizia. Andiamo a vedere all'interno la cronaca di Gorizia. Nuovo pronto soccorso, la gara è andata deserta, il progetto va avanti, questo riprende il titolo di apertura. Presentate due offerte per le astanterie del San Giovanni di Dio e del San Polo. Non ci saranno conseguenze sui lavori. nel 2021 ci sono stati 17 mila accessi. Per i lavori edili distanziati 5,2 milioni a cui vanno aggiunti 600 mila euro per le attrezzature necessarie. Adesso possiamo passare alle pagine sportive con il messaggero. Andiamo subito a leggere l'apertura dello sport. Ci avviciniamo alla gara amichevole dell'Udinese che si disputerà venerdì contro il Lecce. Ma intanto si fa un'analisi su quello che si spera possa essere il cammino dell'Udinese con la ripartenza del campionato. Intervista a Matteo Marani di Sky Sport che dice Udinese Europa possibile. I bianconeri lotteranno per le coppe. La squadra non ha difetti dice Marani ma dipende molto da Gerard e Eurofeu. Poi si parla anche del mondiale. È stato il mondiale dei giocatori. De Paul decisivo per l'Argentina. Poi la foto dello sceicco e di Messi con l'abito la veste catariota. Marani dice è stata una dimostrazione di arroganza a far indossare a Messi la veste catariota. Poi l'ultimo saluto a Mario Sconcerti al funerale c'erano Malagò, Gravina e Carraro e tanti altri a salutare grande giornalista di carta stampata e televisione. Deolofeo ancora solo corso ad oggi si allena a parte è probabile che salti in lecce ma in questo caso per gli amichevoli parlare di chi gioca e chi non gioca è assolutamente superfluo l'obiettivo è quello di vedere tutti arrolabili per il 4 di gennaio. Continuiamo la carrellata con questo Amarcord al Friuli quel Birov goal è il sogno scudetto con L'Udinese che batte l'Inter 25 anni fa al successo che portò la squadra di Zaccheroni sulla ribalta nazionale i tifosi cominciarono a pensare in grande ecco qui la foto del volo di Birov con Galante in ginocchio a terra e la palla che poi si infilerà in porta per la vittoria dell'Udinese contro l'Inter Molina De Paul che tributo ai campeones in Argentina grande festa dei tifosi dell'Albi Celeste qui vediamo De Paul con Messi con la coppa in mano e poi la folla che ha accolto l'Argentina vedete il pullman scoperto che è riuscito a fare soltanto un tratto di strada poi è stato necessario utilizzare gli elicotteri per portare la squadra dall'aeroporto alla città andiamo a vedere cosa succede nella pallacanestro dove è crisi profonda per l'Apo che ha perso tre partite consecutive e ha conquistato l'accesso alla Coppa Italia soltanto sul filo di lana giocherà contro Cantù Boniccioli intanto torna ad allenare dopo il Covid domani arriva Ferrara e non si può più sbagliare Cividale invece gioca contro Chieti questa sera e tenterà di approfittare della crisi degli abruzzesi per conquistare due punti Cividale che ha fallito invece l'accesso alla Coppa Italia davvero d'un soffio nel finale della partita contro Chiusi al pala Longobardi di Cividale con una tripla che di tabella ha beffato Cividale proprio all'ultimo secondo il sorpasso di Chiusi che ha negato a Cividale la Coppa Italia che sarebbe stata sua vista la sconfitta dell'Apu a Nardò e poi si parla di settore giovanile che funziona bene anche dal punto di vista dei risultati tre ragazzi in azzurro domani un torneo vetrina in controtendenza rispetto al momento nero della prima squadra funziona invece bene il settore giovanile gazzettino apertura di sport rosa al completo sottil sorride tornano tutti al lavoro recuperati reduci da infortunio in primis Becao assente dal 17 ottobre Beto sembra avere eliminato la ruggine accumulata in 4 mesi di stop forzato Semedo che ha partecipato a Udinese Tonight lunedì studia la promessa e copia Beto il giovane attaccante portoghese ha raccontato i mesi vissuti ad allenarsi ad Udine voglio l'esordio in Serie A seguo le orme del numero 9 cerco di imparare tutto intanto l'esterno dell'Empoli Fabiano Parisi inquadra l'Udinese e dice vogliamo riprendere bene ma questo è quello che vogliono tutti Gesteco Acchieti ricomincia comincia il giro di ritorno dal Palatricalle c'è l'ultimo in classifica ma all'andata era stata complicata Udine in campo domani ad attende la Ferrara alla Carnera cliente scomodo andiamo sulle pagine nazionali la gazzetta apre così ancora con mercato che adesso comincia ad avvicinarsi ma c'è anche un altro tipo di mercato quello delle società intere che spesso è interessato come discorso per esempio l'Inter che però pare che non sia più in vendita Suning non vende e va al rilancio Zhang si regala l'Inter il presidente festeggia i 31 anni sembrava 131 anni sembrava un errore ma non è così sono 31 gli anni ancora molto giovani il presidente dell'Inter che rinegozia il debito e promette nel nostro futuro ci saranno altre vittorie dunque non vende e rilancia Quara e Leao il gennaio caldo dello scudetto Napoli e Milan le mosse per la fuga oppure per la rimonta a seconda del caso effetto Qatar Mbappé il Real è un miliardo di motivi per lasciare Leao convivenza difficile andiamo poi a vedere qui la foto con la folla oceanica a Buenos Aires dove in 4 milioni sono scesi in piazza per festeggiare in piazza nelle strade un po' dappertutto per festeggiare Messi e gli altri dal pullman all'elicottero vedete che delidio Messi sfida in elicottero folle festa a Buenos Aires vediamo le altre pagine sportive Tosport è Corriere dello Sport Tosport parla di attrazione Juventus su Zizou Zinedine Zidane con De Champs sempre più vicino al rinnovo da CT in Francia rilanciano l'ipotesi Zidane per la panchina bianco-nera se a fine stagione dovesse esserci un divorzio da Allegri ora saldo ecco come può nascere l'intesa poi Juric chiede più garanzie dopo la proposta della società trattativa in stallo su tutti i fronti il tecnico vuole capire le reali ambizioni già sul mercato di gennaio qui lo vediamo insieme al presidente Cairo poi qui in basso Fernandez 100 milioni duello Real Liverpool per Enzo Fernandez il giovane asso dell'Argentina che ha giocato un mondiale davvero straordinario poi la Salernitana mondiale in porta arriva Ochoa eccolo qui Cagliari tutto su Ranieri ma che stangata Cossu esonerato dunque di Verani si punta su Ranieri per il momento la squadra è stata affidata a Muzzi ex conoscenza anche bianconera in Spagna pronti a ripartire oggi il calendario della Liga partono tutti prima l'Italia parte soltanto a gennaio la Premier e la Liga cominciano già prima della fine del 2022 ricominciano a giocare in campionato torna Zidane Francia o Juve l'equipe svele i piani del tecnico fermo da giugno 2021 Zisual Bivio se salta l'ipotesi nazionale punta su Torino Allegri intanto è stato blindato più che dalla società dal contratto oneroso e lungo ma El Can si prepara a ridisegnare l'organigramma bianconero assemblea dei soci il 18 gennaio la festa per Messi e per l'Argentina pazzesca a Buenos Aires vediamo in primo piano anche Rodrigo De Paul poi Napoli c'è Diallo Inter su Alcaraz le big si scatenano al Maradona stasera due obiettivi azzurri Giuntoli studia anche Bamba Frattesi vuole la Roma Ochoa va alla Salernitana Spalletti osserva la coppia del Lille nel test delle ore 20 Marotta segue il Baby del Racing il centrocampista del Sassuolo preme per arrivare da Murigno colpo per Nicola ha preso il portiere del Messico e poi le condizioni di Gianluca Vialli che tengono in apprezzione tutto il mondo dello sport i suoi amici i suoi fan la mamma in Italia è tornata la mamma e il fratello da Cremone erano andati a Londra e ci aveva fatto temere il peggio invece sono rientrati in Italia l'amico Mauro Davialli a Londra è andato anche Mauro Davialli e non si conoscono le condizioni effettive di Gianluca Vialli perché c'è uno stretto riservo sull'evoluzione su quello che sta succedendo viene colto come un buon segnale il fatto che la mamma di 87 anni che era andata a Londra con il fratello a far visita a Gianluca Vialli ricoverata in ospedale e rientrata in Italia adesso andiamo a vedere i programmi di oggi prima di chiudere questa puntata di la segna stampa questa prima elezione del notiziario in diretta come potete vedere ci sono tutte le dirette del pomeriggio ma dalle 12 in poi i TG poi il pomeriggio calcio ancora i notiziari e questa sera invece la tavola di Natale per continuare con le nostre proposte le idee per le festività puntata dedicata ai dolci di Natale e poi prime donne questa sera protagonista del salotto di Giorgia Bortolossi Elena Bulfone presidente di Progetto Autismo FWG in onda alle 21.15 su TV 12 vi lascio adesso al meteo grazie per essere stati con noi appuntamento alle 12 con il TG amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo nella giornata di mercoledì una debole perturbazione coinvolgerà le regioni settentrionali dunque anche il friuli Venezia Giulia portando condizioni di variabilità vediamo ora nel dettaglio Pordenone Udine giornata di mercoledì variabile con cieli in prevalenza a grigi e qualche possibile goccia di pioggia temperature pressoché stabili con clima freddo anche nelle ore centrali della giornata massime che non supereranno i 7-8 gradi giornata variabile anche per Gorizia e Trieste con qualche debole pioggia e temperature pressoché stabili con massime sempre intorno ai 7-8 gradi tutti i dettagli sulla vostra località e per sapere che tempo farà nella giornata di Natale scaricando l'app di Trebi Meteo Grazie a tutti